Inutile trovare l'orientamento. Stai fermo, non guardare. Cazzo guardi. Inutile trovare l'orientamento. Vai giù, esci. Intuisci l'orientamento per poterlo evitare. Una decisione non si prende. Una decisione ti ha. Sviscerati. Fa il conto dei tuoi organi interni. La somma fa la vita. Usa i tuoi organi interni. Tienili sotto sforzo costante e anche a riposo. Riposa sempre, più che puoi, sempre sotto sforzo. Prendi le tue idee. Facci un tapirulano. Corrici sopra, più che puoi, poi. Fermati a pensare cos'era prima l'orientamento. Grazie a tutti.